Oggi qua cari amici, sempre e ovunque, abbiamo la nostra famosissima Maria. Maria, cosa stai facendo oggi? Dicci, dici che stai facendo oggi. Niente. Niente. Ma come, qui vedo la tavola piena, zeppa di frutta, di tutta questa frutta così buonissima. Dove vai Maria? Te ne vai, te ne scappi Maria, Maria scappa via. Aspetta, è incredibile ragazzi, tutto in diretta, abbiamo Maria che se ne è scappata. Non ci vuole far capire cosa ha combinato Maria oggi. No, no, il caro Giuseppe è stato. Cosa è successo Maria? Ha buttato il vino sulla tavola. Il vino a quest'ora di, all'una e mezza di giorno che bevi il vino. Eh, Giuseppe Umbriagona. Ma è Umbriagona, eh Maria, è la Umbriagona. Ma guarda, un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno, vero Maria? Sì, sì. È tornata Maria, eccoci qua Maria. Guarda le mie melanzane, guarda che melanzane, guarda che melanzane, e che pomodori. Mamma mia Maria. Questa è vera nostra questa. È veramente tua Maria. Guarda che roba, guarda che roba che esce dal nostro giardino. Ma cosa ci metti vicino, Maria, per farle così grande? Non ci metto niente, solo un po' di concime. Ma ci fai... No, no, concime no, no. Le tame, le tame. Le tame, ci fai la cacca vicino. Sì, sì. Facciamo la cacca. Fai la cacca vicino alle piante, così crescono grandi e forti. Ma questa melanzane sembra un pallone. Eh Maria, guarda qua quanto è grande questa melanzane, è enorme. Bella, bella, bella. Bellissima, bellissima. Non te l'aspettavi neanche tu, vero Maria? No, non me l'aspettavo proprio, perché è uscito questa roba. E questa come la fai adesso, in durata e fritta? Come la fai? No, questa si può fare anche fatta arrossita. È una parmigiana di melanzane. Sì, sì, sì. Arrossita e poi si condisce con olio, origano. Non capito. Sì, ammenta. Bravissimo. Olio, sale. Ma se, Maria, vedo che oggi vai a frutta qui. Sì. C'hai tutti i melone, melone di acqua, il cantalupo, i fighi. C'è tutto. C'è tutto, nella tua tavola c'è sempre tutto, vero Maria? Sì, sì, poco è buono. Poco è buono, va bene Maria. Sì, allora saluto i nostri cari followers. Cari Far West. Tutti i nostri amici del Far West. Far West. E vuoi fare un saluto speciale? Sì, un saluto cordiale alla signora Elvira, la salumiere. L'Elvira della Putcarra. Sì, sì, la Putcarra. Va bene, Maria, allora... E lui è sempre pronta... A darti... Sì. Che ti dà la signora Elvira? Ti dà il salame? No, a godere, a spicciarci. Ah. Sì. Bravissimo, Maria. È sempre pronta la signora Elvira. Bravissima, bravissima. No, no, non ti preoccupare. Non pensare troppo, poi... Ti fai in fumo il cervello. È vero. In fumo il cervello. Sotto questo cappello che ti fai in fumo il cappello. Va bene, allora un saluto ai followers. Followers. Ciao followers. Ciao, cari Giuseppe. Ciao. Dal Far West è tutto.